E vi mostro al 132 della 138esima strada una delle chiese più belle di Harlem, probabilmente quella con il coro gospel più famoso, infatti sono celebri le messe gospel di questa chiesa che è la Abyssinian Baptist Church, chiesa fondata da una comunità africana di cittadini in prevalenza etiopi da cui il nome è Abyssinian, inizialmente nella Lower Manhattan sulla Ward Street, successivamente si spostò pian piano sempre più a nord, seguendo il flusso della comunità afroamericana fino a collocarsi in questo punto. Il pastore più celebre di questa chiesa fu Adam Clayton Powell Senior, che portò avanti un'imponente campagna di affiliazione reclutando addirittura duemila fedeli, gli succedette il figlio Adam Clayton Powell Junior, che però lasciò ben presto per incarichi politici, divenendo il primo membro del congresso di colore e battendosi per i diritti della comunità afroamericana. Questa è la Abyssinian Baptist Church, che si trova al 132 della 138esima strada.